Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege Oggi, come promesso nel video precedente, che se non avete visto vi lascio qui sopra in descrizione Volevo andare a sbloccare Blackbird, ho già completato tutto quanto il setup così non perdiamo tempo E possiamo andarci a spaccare la ranked che ragazzi sono riscesso da bronzo Praticamente ero argento 3, sali e scendi e adesso sono un bronzino 2 Quindi devo assolutamente iniziare a salire anche perché mi sono praticamente qualificato da pochissimo Mi ero qualificato bronzo 3, poi un sali e scendi ma tendenzialmente a scendere Con più sconfitte che vittorie, un paio di partite giocate benissimo e perse inutilmente Mentre l'ultima che ho fatto invece l'abbiamo vinta ma io ho fatto schifo Quindi vediamo un po' oggi se con questo nuovo champ, con questo nuovo operatore Riusciamo a risolvere qualcosina di più e di far bene, di vincerla e di risalire un po' Oh cazzo, mi piace tantissimo Frost, tantissimo Quindi vado a prendere Frost e in questa mappa potrebbe essere buono magari lo scudo mobile Vediamo un po' Ok, iniziamo a difendere, direi che una bella trappolina la piazziamo qua Dai, levati dalle palle, maledizione, trovo sempre uno in mezzo ai coglioni Ok, perfetto Poi, oh, bella armatura, ce la becchiamo Rinforzo un po' il muro Che cos'è, un drone? Dove è andato? No, inseguite quel drone e prendetelo Ok Poi, oh, di nuovo un altro drone Perfetto Allora, barrichiamo Vado a piazzare anche le ultime due Anche di qua Poi qui mettiamo un bel qua Perfetto Con trappola qui Perfetto Poi, ci metto un bel trappolino Dove uno magari non se lo aspetta Allora, per esempio, qui Ok Comunque Si, ci segnala Chris Saker Wow, 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 wow What the fuck? Dove sono? Dove sono? Merda, non riesco a capire dove cazzo sono Stanno qua, stanno Stanno qui Qualcuno lo becco, sicuro 2v4, però, amico, se mi passi davanti Siamo in difficoltà qui, eh Dove sta? Allora, vediamo un po' Devo sentire bene, perché Siamo rimasti solo in due E Oh, 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 oh Non mi beccare, ti prego Cazzo Lui sa di averlo preso Allora, devo curare assolutamente Ok E vai, cazzo Beccato 2v2 Se guardi quell'angolo, Chris Però bene Possiamo spuntarla Perché è un buon posto E ci sono le trappole per entrare Dovevo forse mettere lì una trappola Ultimo nemico rimasto Io guardo qua Tu guarda di là E ce la dobbiamo fare 15 secondi Da qualche parte deve arrivare Sto tizio Quindi orecchia aperte Occhi aperti Massima attenzione Indice sul grilletto pronto Tutto al fuoco Boom E invece stava dormendo E Non ha fatto un bel nulla Perfetto Top Il top Così ci piace Così ci piace 1 a 0 Perfetto Andiamo belli con il round 2 Attacco E vai con Blackbird Ci mettiamo il super mitraglietto Questo con la skin E Cos'è? Quella stordente Va bene La stordente A post Voglio partire più con il team E Cercare di Di stare insieme a Montagne Sperando che Montagne Non abbia selezionato Proprio l'altra uscita E trovare il contenitore Prima possibile Quindi Cerchiamo il contenitore Di Biolofio Noi non abbiamo Che abbiamo No Non ce l'abbiamo E Q Quindi dobbiamo proprio trovarlo Ottimo lavoro Va bene Allora Ah Messo Ok Ha messo Lì Sicuramente Si rompe Sicuramente Si rompe Provo a spingermi Attraverso il muro Ce l'ho fatta Merda Non mi sparare Non mi sparare Non mi sparare Ok Perfetto No Merda Mi ha visto Vaffanculo Ok Vai Montagne Cioè io sto con te Montagne Qua il teamwork Ci porterà la vittoria Vai Montagne Dimmi tu Aspetta che mi metto Lo scudo Ok Dov'è montagne Ditemi dov'è Pingatemi qualcuno Dai Non sta di qua Devo riuscire Possiamo avanzare Se vuoi il lusco Dove sta qualche testolino Tirate fuori qualche testolino Oh shit Dov'è Dov'è Dai sbuca che ti sparo in testa Cazzo Dai Oh chi sta rompendo cosa Chi sta rompendo cosa Vai Ok Devo ricaricare Scusa amico Dove sta Ce ne sono tre Allora non devo fare come al solito Perché adesso mi viene da correre lì Iniziare a sparare come un pazzo Invece no Invece no Devo starmi buonino Calmo E aspettare No devo correre No cazzo Da dove mi ha sparato Da dove stava guardando Qualche buco per terra Vabbè G mi ha fottuto Mi ha proprio fottuto Stavo guardando in alto E niente Vediamo un po' Niente Anche morto Quindi ci sta No non è morto Grande 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 Mitico 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 Direi di riprendere Frost Stavolta ottimo Abbiamo un rook per i giubbetti Allora Subito Subito Mettere questo Così Con trappola Ok dobbiamo far fuori I fottuti droni Fottutissimo Dove sta Un Qua Ok Là c'è E qua C'è dello stesso colore del pavimento Va bene Ci sta Barrico anche qua E niente Non si deve fare altro Che attendere il nemico Va bene Se barichi va bene Così se la fanno esplodere Allora Dove si può passare Qui Da qui E qualcuno arriva Lo freddo proprio Vai Metti il naso qui avanti Così ti uccido subito Sento sparare qui sopra No Cazzo No Mi ha proprio fregato Allora adesso Cerchiamo di pingare Non c'è Ok Vinta anche questa Grande Chris Grandissimo Chris Ha fatto secco tutti Veramente Un pazzo Grande Grande Sicuramente Molto forte 8 kg Non è mai morto Ok Io non guardo mai Il livello Dei Io so che dall'app Si possono guardare I livelli rank Ma Se volete un consiglio mio Non fatelo mai Non guardate mai Chi Avete contro Perché potrebbe essere Forviante Anche psicologicamente Potrebbe Muovere La vostra Il vostro umore In maniera sbagliata Dovete sempre Non guardare Chi avete contro E giocare Quello che sapete fare E basta Quindi Nessun gioco Guardo mai I miei avversari Chi sono Gioco E basta Perché magari Se vedi che sono tutti Super campioni Dici Eh vabbè Ho perso Invece no Bisogna giocare E dare sempre Il massimo Non importa Contro chi Quindi Hanno trovato Il contenitore Di biorischio Top E ci andiamo A posizionare Bene Andiamo a posizionare Bene Piano di sopra Ero proprio Totalmente fuori strada Andiamo sul tetto Mi sembra La scelta Più logica Oh oh Che sta succedendo Qui Oh Che bello Che bello Mettiamo un altro Scudo Che uno Me l'hanno fatto secco Qua mi puzza Di Mi stanno Per far fuori Mi puzza Di stanno Per farmi fuori Un po' Dentro di me Lo so Un po' Dentro di me Lo so Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù Non vedo Niente Però qualcuno Devo averlo Beccato E assistato Evidentemente Quello lì L'avevo preso Stavo a terra Ok Andiamo un po' Io entro Da qui No però L'ho preso Dovrebbe stare a terra Minchia L'ho smitragliato Di brutto Vediamo il replay Cioè L'ho smitragliato Veramente di brutto Non puoi Non stare a terra Ma veramente Neanche un colpo Cioè Il sangue Era il mio Vabbè Grandi Grandi Unanimità G G Comunque ho fatto Le mie kill Le ho fatte Le mie assist Le ho fatte Dai Ci sta Ci sta Una bella vittoria 4 a 0 Dominata proprio Vittoria perfetta Ci sta Benissimo Ci voleva una risalita Di rank Ci voleva proprio Chris Stryker Davvero fortissimo In questa partita Ha carriato A bestia 10 kill Veramente Molto molto forte E quindi ragazzi Per questa Per questo video E tutto Si risale Bronzino 1 Meno male Dobbiamo risalire Un bel po' di livelli Siamo soltanto all'inizio Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Perché il gioco Lo porterò assiduamente Su questo canale Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Un commento Fatemi sapere Che ne pensate E boom Alpha pack Quindi finale Ci becchiamo Alpha pack Ci becchiamo Alpha pack E due Alpha pack Ragazzi Perché uno lo avevo Quindi prima di chiudere Li andiamo subito Ad aprire Vediamo un po' Che ci becchiamo Una skin Figa Abbastanza figa Di questo mitra E poi Vediamo un po' Che cazzo Ci becchiamo Al secondo Una maschera Per Zeze Copricapo raro Davvero carino Con gli occhi verdi Non male Non male In questi due pack Che ho trovato Praticamente così E quindi adesso È davvero tutto Quindi like Commento Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao